Ora vedrò come stanno i ragazzi oggi, non ci sarà Nesta e giocherà uno tra Iepes e Bonera Mexex purtroppo non è ancora pronto perché ha avuto anche questo incidente della mano che ha tenuto fermo 15 giorni però è in una buona condizione e credo che presto la vedremo in campo per quanto riguarda gli altri dovrò valutare l'allenamento di oggi ma innanzitutto bisogna essere pronti noi a non sottovalutare questa partita e che è una squadra che gioca bene, ha grande profondità, ha le punte molto veloci difendono molto bene, concedono poco e quindi bisogna essere bravi a capire che sarà tutt'altro che una partita semplice